Non vuol dire che... perché ora c'è tutta la tecnologia, c'è questo po' di tecnologia e invece... Ma non finirà da nessuna parte nel senso che nessuno si vinculerà con tutte le cose che metto sui miei canali di Youtube. Come si chiama il mio canale Youtube? Bboy Cheecoz! Bboy Cheecoz! Nella sua forma contratta! Bb C Coz! Sai cosa vedi? Non si fa così! Non si fa così! Parola di mezzo! Parca quà, questo servo e conseguina questa storia. Parca, parca, parca? .